Cari colleghi, bentrovati dopo la nostra pausa estiva e riprendiamo con le nostre serate culturali ancora online a causa del distanziamento e anche per permettere a un maggior numero di colleghi di seguire questa serata. La serata tra l'altro è molto interessante e molto importante per la nostra professione perché parleremo delle patologie oncologiche del cavo orale e lo faremo con la consueta metodologia, la doppia visione del medico specialista, in questo caso oncologo e l'odontoiatra. Le neoplasie del cavo orale sono tra i tumori più pericolosi perché metastatizzano con grande facilità e l'odontoiatra è proprio quella prima sentinella che può fare una diagnosi precoce. Per cui è assolutamente fondamentale conoscere e saper riconoscere le lesioni precancerose ma anche conoscere le terapie, le terapie radioterapia, le terapie farmacologiche che possono interagire invece con il nostro piano di trattamento. Di questi argomenti e di tanti altri aspetti affronteremo stasera con due massimi esperti italiani sull'argomento, il professor Silvio Abati e il dottor Carlo Resteghini che ringrazio di essere qui e quindi lascio la parola al dottor Claudio Procopio per presentare i due relatori. A te Claudio Benvenuto a tutti voi anche da parte mia ringrazio Andrea Senna per l'iniziale presentazione così come lui diceva questa sera affrontiamo un argomento sicuramente di grande interesse per tutti noi sia per la componente odontoiatica che per la componente medica in quanto appunto le interazioni che possono esserci a livello del cavo orale e soprattutto quelle che possono essere anche le sinergie nel trattamento di queste patologie tra l'odontoiatra e il medico rappresentano un aspetto sicuramente di rilievo. Il mio compito è anche ricordare a tutti voi come si possa fruire della possibilità di ottenere dei punti ECM partecipando a questo evento. Cosa importante è che tutti noi si partecipi al 100% del monteore che è previsto per questo intervento che dovrà avere termine per le 21 e 30. Per poter compilare il modello e le risposte io ricordo a tutti voi che bisognerà collegarsi alla piattaforma www.omceomi-ecm.it e a quel punto compilare i questionari ECM. Quando è possibile fare questo? Bene, sarà possibile dalle 12 del 21 di settembre fino alle 23.55, quindi alla sera del giorno successivo del 23 settembre 2021. Per fare questo appunto come tutti voi ben sapete bisogna accedere con la propria username e password al sito, entrare nello spazio webinar ECM, cliccare sul titolo del corso in questione e poi di fatto ricordarsi anche di compilare la sezione relativa alla valutazione finale dell'apprendimento e la valutazione della qualità percepita. Io a questo punto ricordo anche che al termine delle relazioni sarà possibile per i due relatori di fatto rispondere alle domande da voi inviate e per fare questo voi disponete nella barra orizzontale alla base del vostro schermo di un pulsante dove leggete D ed R. cliccando su quel pulsante si apre una finestra dove appunto potete inserire il testo della vostra domanda che poi saranno moderate dal dottor Claudio Pagliani, dal sottoscritto al termine appunto delle due relazioni. Quindi io adesso lascerei la parola alla dottoressa Giulia Pagliani che invece si occuperà di presentare il primo nostro relatore che è un caro amico il professor Silvio Abati e quindi lascio adesso la parola a Giulia per poter proseguire nelle nostre relazioni. Grazie a tutti voi. Grazie Claudio e buonasera a tutti e buonasera anche al professor Abati che questa sera sono felice di introdurre e con cui adesso avrò l'onore di diciamo colloquiare in maniera abbastanza informale per cercare di conoscere meglio la sua persona e farla conoscere meglio anche a chi sta ascoltando questo questo webinar. Buonasera professora allora io le chiederei. Buonasera dottoressa Palandrani. Buonasera le chiederei come prima cosa di raccontarci brevemente qual è stato il suo percorso di studi e ciò che l'ha portata fino a qui oggi. Io volevo fare il dottore mi sono laureato in medicina ho conosciuto un grande maestro durante il mio percorso di studi che si chiamava Giorgio Fogel e sono rimasto dove mi sono laureato ho frequentato la scuola di specializzazione in odontostomatologia che allora era la via per poter praticare in questa area della medicina che è l'area della malattia della salute della bocca e poi grazie anche non solo a Giorgio Fogel ma ad Antonio Carrassi, a Laura Stromenger, a Roberto Weinstein, gli allievi del professor Fogel di allora mi sono dedicato alla patologia delle mucose orali e all'oncologia orale e sono rimasto in questo settore. Ho fatto un percorso della carriera universitaria nell'università statale e cinque anni fa sono migrato, sono stato un migrante. Ricordo, ricordo il periodo che ho migrato alla clinica odontoiatrica dell'ospedale San Raffaele diretto da Enrico Guerlone in cui c'era la necessità e l'opportunità di continuare un percorso nel campo della patologia orale. Ora insegno patologia speciale odontostomatologica al corso di laurea in odontoiatria, in igiene dentale, insegno malattie odontostomatologiche al corso di laurea in medicina e sono rimasto a fare questo lavoro che è un lavoro molto interessante anche da un punto di vista della ricerca. Certo. Beh, ha nominato tutti grandi, grandi, grandi persone molto importanti nel campo dell'odontoiatria però io so che lei non solo in Italia ha un grande, diciamo, un grande seguito, giusto? Anche all'estero ha avuto grandi esperienze nell'università. Sì, io sono stato a visitare, ho visitato una serie di unità cliniche che si occupavano di medicina e patologia orale in Inghilterra, negli Stati Uniti, ho partecipato a corsi residenziali, la settimana scorsa ero a Bruxelles dove mi hanno invitato a tenere una relazione di apertura, la keynote lecture dell'International Association for Dental Research della divisione europea. È stato un grande onore, almeno pari a quello che ho questa sera, di essere qui con voi. Grazie, grazie. Piacere nostro, ovviamente. Invece volevo chiederle, per quanto riguarda la parte più, diciamo, più divertente, quali sono i suoi hobby? So che qualcosina da dire anche qui ne ha, o mi sbaglio? Mi piacciono le motociclette, specialmente se sono cromate oppure tutte nere, opache. E mi piace suonare blues con gli amici. Ha una collezione di chitarre. Sì, ho un po' di strumenti, come tutti quelli che hanno questo mio vizietto, poi una sola non basta mai. No, come anche le macchine, no? Come le automobili, sì, no, quelle mi interessano già di meno. E una cosa invece che a me interessa molto chiederle, in quanto io appunto, giovane odontoiatra, io so che nell'ambiente universitario lei ovviamente è a contatto quotidianamente con i giovani, è corretto? È corretto. Che cosa sentirebbe di dire a un giovane odontoiatra che si affaccia a questa professione e che lo vuole fare con passione, dedizione, che però incontra ovvie difficoltà, come è normale che sia all'inizio, in tutti i lavori. La prima cosa che vorrei dire a un giovane odontoiatra è un po' la stessa cosa che dico agli studenti che vedo, agli specializzanti, insegno anche nella scuola di specializzazione di chirurgia orale del San Raffaele. La prima cosa che gli dico è di non dimenticare la patologia orale, non dimenticare che esistono anche le mucose e che le malattie, che esistono le malattie mediche e le loro manifestazioni nella bocca e perché con questo possono aumentare enormemente l'impatto della loro professione sulla salute delle persone. Possono nobilitare anche l'attività, la propria attività nello studio. Poi parleremo e ascolteremo il dottor Resteghini che parlerà di alcune cose importanti dove il ruolo dell'odontoiatra è fondamentale anche per garantire la salute dei suoi pazienti, non solo della salute dei denti, dei legamenti parodontali e delle riabilitazioni. Certo, e come diceva prima il dottor Senna, siamo la prima sentinella e quindi possiamo anche cambiare il destino di una persona. Certo, questo è fondamentale. Io a questo punto la ringrazio e non le rubo altro tempo per la sua relazione. Grazie dottoressa. E lascio il palco. Grazie a lei. Lascio in questo, chiudo ma in realtà inizio con un grandissimo ringraziamento all'Ordine dei Medici della provincia di Milano e alla Commissione Odontoiatri Milanese e ai suoi rappresentanti che sono il dottor Procopio, il dottor Senna, il dottor Rossi, da dottoressa Palandrani e il dottor Pagliani. Ho avuto l'onore di condividere una esperienza professionale con il dottor Procopio per molti, molti anni e parimenti il piacere e l'onore di essere il responsabile del dottorato di ricerca che ha frequentato e conseguito il dottor Senna. E quindi penso di conoscere questi colleghi molto, molto e di aver condiviso con loro molti eventi professionali. Per non dimenticare dell'amico Claudio Pagliani a cui siamo legati anche da un'amicizia extra professionale. Vorrei ricordare in questo ringraziamento anche il dottor Vaglia che ha la parte tecnica di questa cosa e che sta conducendo e ci aiuterà perfettamente con la gestione del webinar. Ora condivido il mio schermo, ecco, e condividi e iniziamo. L'argomento di questa sera è il cancro della bocca e il precancro della bocca. Come può essere il ruolo dell'odontoiatra per migliorare, per diminuire l'impatto di questa malattia che può essere devastante e migliorare l'outcome, ciò che succede ai pazienti dopo una diagnosi e quali sono le strategie utili. Questo è un giovane paziente, è il risultato delle cure di un giovane di 29 anni a cui è stato diagnosticato una malattia, un cancro orale allo quarto stadio. Per quanto il paziente possa essere stato curato al meglio, le condizioni, la morbilità legata, cioè la quantità di malattia legata alle cure è una quantità di malattia che rende la vita residua estremamente complessa e che cambia il destino delle persone e probabilmente bisognerebbe cercare tutti quanti di arrivare a riconoscere questa malattia un po' prima, poi vedremo perché. Il cancro più frequente della bocca, e parleremo solo di questo, è il carcinoma squamocellulare orale che è il tumore maligno dell'epitelio della mucosa e costituisce il 90% di tutti i tumori. Rispetto ad altri tumori di altri organi apparati, nonostante i progressi delle cure oncologiche, i tassi di sopravvivenza non sono cambiati molti, i tassi di sopravvivenza a 5 anni, sono rimasti più o meno tra il 50 e il 60% negli ultimi tre decenni. Questi sono numeri un po' non precisissimi perché dipendono e sono correlati alle realtà in cui ci si trova e alle situazioni e ai paesi in cui vengono verificati questi dati. E questo è prevalentemente correlato alla diagnosi tardiva, perché se andiamo ad analizzare i tassi di sopravvivenza sono molto migliorati nei casi dove lo stadio della malattia è uno stadio iniziale in cui il tumore è localizzato, cioè riguarda solo i tessuti della bocca e non è ancora arrivato agli linfonodi regionali né tantomeno alle metastasi a distanza. Purtroppo circa il 60% dei tumori maligni dei carcinomi della bocca vengono diagnosticati ancora negli stadi terzo e quarto in cui il tassi di sopravvivenza globale non è superiore al 40%. L'incidenza della malattia, allora i dati globali in tutto il mondo, questo è un tumore che è al sedicesimo posto nel mondo tra tutti i tumori, ci sono circa gli ultimi dati dell'International Association for Research Against Cancer, l'OIARC ci dice che ci sono circa 400.000 casi con oltre un terzo di mortalità annua. Vi ricordo che qui parleremo di cancro labbra e cavo orale, visibile, cavo orale. Sono fuori dal nostro discorso il cancro del loro faringe, del rinofaringe, i cancri di altre, delle tonsille e di altre zone. che può inficiare un po' la statistica. Quando leggiamo 600.000 casi si parla di cancro testa e collo, che non comprende solo il carcinoma, ma anche le altre forme, gli istotipi tumorali. Una delle cose interessanti è il rapporto maschi e femmine, è globalmente cambiato, si è ridotto per ciò che riguarda i maschi, aumentando la malattia nelle femmine e che circa due terzi dei casi sono in Asia. Questo è strettamente correlato agli stili di vita differenti e che comprendono una serie di fattori di rischio che hanno un grosso impatto. In Italia sono circa tra 7 e 9.000 i casi di cancro orale annui. Scusate che io devo... non vedo... ecco, adesso vedo. La diagnosi del cancro in stadio precoce è fondamentale per migliorare la sopravvivenza e ridurre la morbidità e l'identificazione delle lesioni iniziali di piccole dimensioni consente cure meno aggressive, ovviamente debilitanti, come vedremo. Più o meno gli stessi dati che vediamo in Europa, li vediamo negli Stati Uniti, dove si vede che i nuovi casi non sono cambiati moltissimo, sono appena appena ridotti, nonostante le campagne contro i fattori di rischio e così via, e la mortalità pure non è cambiata moltissimo negli ultimi decenni. Ecco, lo stadio clinico e il grado patologico al momento della diagnosi sono gli indicatori più importanti della prognosi, del carcinoma squamo cellulare orale. Qui vediamo un tumore molto piccolo, uno sta, una, un tumore T1, cioè inferiore a 2 centimetri e in stadio 1 senza altre lesioni e con una profondità di invasione molto bassa, inferiore a 5 millimetri. La sopravvivenza è superiore all'80% se la malattia è locale, solo del cavo orale, è intorno al 60-65 se coinvolge i linfonodi, diventa già inferiore al 40% se ci sono metastasi distanti globalmente, ma se andiamo ad analizzare in particolare diventa del 90% se la lesione è più piccola di 2 centimetri ed è poco profonda e diventa solo del 4% con una grossa lesione invasiva che invade i tessuti circostanti e i linfonodi e che può avere metastasi. Scusate, ma poi scompare. Ecco, il ritardo diagnostico medio del carcinoma squamo cellulare orale è intorno ai 6 mesi nelle meta-analisi che sono state fatte ancora adesso e comprende un ritardo legato al paziente che non va magari a farsi vedere, legato al sanitario che vede il paziente che non riconosce la malattia o lo invia al consulente sbagliato o perde tempo e il ritardo poi dovuto ovviamente alla capienza delle strutture di accoglienza del paziente dove può essere operato. In questa meta-analisi il ritardo medio era di 90 giorni invece e l'80% dei casi però è superiore a un mese. I principali fattori di rischio oltre a quelli che conosciamo sono il consumo di tabacco e l'abuso di alcol dove l'abuso di alcolici si ritiene che abbia un impatto superiore sull'aumento del rischio di cancro altri fattori di rischio sono l'infezione da HPV che per ciò che riguarda è un fattore di rischio rilevante nel cancro orofaringeo tonsilla orofaringe base lingua ma per ciò che riguarda il cavo orale strettamente detto ha un impatto inferiore. la scarsa igiene orale la candidosi cronica la bocca asciutta alimentazione scorretta questi sono stati fatti molti studi anche negli anni 70-80 all'Istituto di Tumori di Milano dove è stato dimostrato da Berrino e dai suoi collaboratori l'importanza dell'alimentazione con frutta e verdura fresca nella diminuire il rischio di cancro della bocca questa interessante immagine fatta realizzata dal servizio sanitario dal servizio sanitario inglese ci fa vedere il ruolo del consumo intensivo di alcolici se il consumo è superiore a 14 units di alcol dove una unit è un 10 millilitri di alcol puro al 100% due cucchiaini da tè o un piccolo uno cosiddetto sciottino una pinta di birra ordinaria sono due units una bottiglia di vino una bottiglia di scusate un bicchiere grande di vino è superiore a 3,5 units se è superiore viene fissato come limite raccomandato per maschi e femmine 14 unit alla settimana per non aumentare oltre il 15% il rischio di cancro della bocca come 14 unit sono 7 pinte di birra alla settimana cosa che non è così difficile superare ecco l'irritazione cronica delle mucose cioè il trauma cronico che provoca infiammazione è un argomento dibattuto non tutti i ricercatori sono d'accordo ma alcuni studi come questo che presento recente di colleghi argentini evidenziano un ruolo della irritazione dell'infiammazione cronica provocato da denti fratturati e malposizionati manufatti danneggiati a un mortomorsicamento indipendentemente da quello che può essere la conferma di questo ruolo però eziologico evidentemente pone un altro interesse nell'attività dell'odontoiatra nel mantenere il grado di salute orale del paziente e come il ruolo che ha l'igiene orale scadente anche questo ripone l'interesse ancora di più nel ruolo dell'igienista dentale e dell'odontoiatra ecco questo è un cancro della bocca in un giovane paziente che evidentemente correlato al trauma cronico questo è un paziente sindromico si è sviluppato sopra una lesione cronica provocata dal trauma mentre invece un'ulcera benigna come questa dopo che si rimuove per quanto sospetta possa essere una volta che si rimuove la causa che è quel dente 47 fratturato si evidenzia nel giro di due o tre settimane la guarigione che poi mostra il fatto che la lesione asportata era semplicemente una lesione cicatriziale un cosiddetto fibroma traumatico residuo quali sono i segni e sintomi del cancro orale che cosa cerca? deve cercare il clinico che effettua l'esame del cavolare del paziente sfortunatamente non ci sono delle lesioni specifiche delle malattie della malattia iniziale delle lesioni piccole può essere una macchia bianco rossa persistente un'ulcera persistente o un nodulo nella bocca o nel collo può essere la mobilità inspiegabile di denti scusate c'è ripetuto qua inspiegabile o l'alveolo che non guarisce dopo la chirurgia orale dolore o intorpidimento del labbro, della lingua e dell'orecchio poi mano a mano che si va verso le lesioni avanzate è chiaro che è già meno difficile riconoscere che un clinico possa riconoscere che una malattia non è così grave quando ci sono grosse ulcerazioni persistenti solide, profonde, dure al tatto, lesioni invasive, esofitiche o nodulari la cosa importante è che la maggior parte delle lesioni precoci sono indolenti ma possono essere riconosciute con un esame clinico accurato questi sono dei tumori vorrei puntualizzare queste lesioni hanno una data sono i tumori che ho visto quando già ero nella mia nuova sede all'ospedale San Raffaele questi sono tutti tumori avanzati sono T3 o T4 lesioni che non ci hanno messo tre giorni o tre settimane a crescere ma sono lesioni presenti in cui perlomeno nel 50-70% dei casi c'era presente un'alterazione da molto tempo probabilmente per alcuni da anni e che sarebbero stato potuto riconoscere e fare una diagnosi prima che diventassero così massive guardate questo tumore che cercavo la freccia la vedete spesso che la vediate guardate questo tumore che coinvolge tutto il corpo della lingua si origina qui e si estrinseca anche da questa parte questo è un altro caso che avevamo visto insieme ai colleghi e al professor Gherlone una giovane donna di 39 anni curata per tre mesi per un'afta che non guariva apre la bocca si vede la parte destra della lingua tumefatta si vede questa lesione dura al tatto colorata con un apposito colorante rivelatore si pratica la biopsia e si vede che è un cancro purtroppo questa paziente non sta affatto bene vista nel 2000 i primi mesi del 2017 sta proprio proprio male ora cosa sono quelle che venivano chiamate lesioni precancerose che ora si chiamano lesioni orali potenzialmente maligne o lesioni orali premaligne sono lesioni della mucosa che possono precedere il carcinoma della bocca le principali sono la leucoplachia l'eritroplachia la fibrosi su mucosa e il lichemplanos orale la maggior parte di queste lesioni non progrediscono fino al cancro qualche volta è difficile distinguere le lesioni ad alto rischio da quelle a basso rischio e non sempre vengono diagnosticate o curate in un modo ottimale la leucoplachia l'attuale è una chiazzo placca bianca della mucosa orale di rischio con rischio variabile si prati è una diagnosi clinica dopo esclusione di altre patologie note o di lesioni senza rischio di evoluzione maligna la leucoplachia è costituita nella maggior parte dei casi da un inspessimento dell'epitelio come vedete qui è una sorta è simile a anche se non lo è è a una callosità è un inspessimento dell'epitelio con quando la lesione è benigna con ipercheratosi benigna questa è la leucoplachia verrucosa prima si chiamava leucoplachia verrucosa proliferativa in realtà può non essere verrucosa scusate la leucoplachia proliferativa la leucoplachia proliferativa è una malattia in cui si vede l'estensione progressiva e continua nel corso degli anni della di questa chiazza bianca inspessita con lesioni che possono essere piane e non verrucose siti multipli un sito singolo maggiore di 4 cm spesso coinvolge la gengiva e è connessa un elevato rischio di carcinoma verrucoso come vedete in questa zona insorto nella paziente in cui si vedeva la leucoplachia proliferativa questa è un'eritroplachia è una chiazza rossa non identificabile altrimenti spesso l'eritroplachia è già contiene già aree come in questo caso di displasia grave o di carcinoma in situ o di carcinoma microinvasivo come stiamo vedendo in questa immagine istologica non tutte le leucoplachie sono leucoplachie a rischio di evoluzione per esempio questa lesione bianca che si chiama BARC che vuol dire cheratosi benigna delle creste alveolari che è piuttosto frequente la vediamo quasi sempre è legata al continuo è una sorta di callosità legata alla masticazione alla conformazione masticatoria che riguarda le selle edentule posteriori e le zone retromolari è una lesione bianca ma non è una leucoplachia intesa come lesione pretumorale avevamo visto le leucoplachie non frizionali cioè non da sfregamento e quelle e quelle vere potenzialmente maligne di solito hanno dei limiti netti come vediamo in questa lesione le leucoplachie che non sono legate allo sfregamento per esempio contro i denti ma sono le leucoplachie di quelle che potenzialmente trasformabili in un tumore la frequenza di trasformazione a distanza è variabile se le lesioni sono omogenee è inferiore se sono non omogenee come vediamo qua con aree verrucose e proliferative è superiore l'eritroplachia ha la frequenza maggiore e come vi ho detto in un buon 40% dei casi è invece già tumore e l'ichemplanos invece ha una frequenza molto bassa il marker più ampiamente accettato per valutare il rischio che una lesione potenzialmente maligna della mucosa vada in contro la trasformazione maligna è il grado di displasia della lesione e questo grado di displasia lo si può ottenere attualmente solo con identificando clinicamente la lesione e nelle parti sue più significative e praticando una biopsia e con l'esame istologico nella displasia ci sono specifici cambiamenti dell'architettura della lesione e che sono preliminari alla trasformazione maligna vera e propria cioè alterazioni aumento della cromaticità nucleare ipercheratose abbondante cellule discheratose che modifica della stratificazione della maturazione delle pitelli la progressione della lesione non è così semplice come la possiamo vedere in questo bellissimo disegno tratto da una pubblicazione scientifica non è ancora bene noto è ancora controversa la patogenesi del cancro è un processo a più fasi con un accumulo di modifiche genetiche ed epigenetiche questo influenza l'espressione di proteine altera le vie di segnalazione tra le cellule e porta alle modifiche geniche sia di singoli nucleotidi sia di cromosomi con mutazioni che inattivano i geni oncosoppressori e lasciano via libera alle trasformazioni tumorali per non parlare di un altro argomento interessante che è il microambiente peritumorale adesso si sa che c'è un ruolo fondamentale vero è che qua vediamo un grosso infiltrato infiammatorio al di sotto di questo carcinoma in situ come facciamo a riconoscere ci sono una serie di marker possono esistere in questo lavoro che era stato premiato alla società italiana di medicina e patologia orale di un valente studente che si è laureato ed ora si sta specializzando in chirurgia maxillofacciale all'ospedale San Gerardo avevamo identificato in un marker che è un marker istologico però le socchinasi una variazione che erano correlate positivamente con la presenza di leucoplachia o di carcinoma era interessante un altro lavoro interessante così giusto una veloce carrellata stanno comparendo questo è un altro lavoro molto interessante che è la che ci dice dell'Alessandro Villa fatto ad Arbard che ha indagato le modificazioni genetiche in ipercheratosi non reattive cioè leucoplachie vere in leucoplachie proliferative e in leucoplachie con displasia grave o moderata o grave che ha visto che non esistevano differenze nella frequenza di mutazioni nelle lesioni con leucoplachie non reattive senza displasia e quelle con displasia uguale cosa ci dice questo lavoro piuttosto complesso nella sua realizzazione ci dice che le leucoplachie sono malattie precancerose rispetto a quello che si diceva un po' di anni fa si sa che se andiamo a togliere da tutte le lesioni bianche le lesioni reattive le barc le zone di automorsicamento la frequenza di trasformazione maligna non è più quella del non è più del 10% ma diventa del 43% la diagnosi precisa e il trattamento precoce delle malattie premaligne cioè delle lesioni precancerose costituisce il metodo più efficace per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e ridurre la mortalità fare diagnosi prima ovviamente prima che diventi cancro lo standard attuale però per il rilevamento delle lesioni per riconoscere un'alterazione della mucosa è un esame clinico orale convenzionale con ispezione visiva palpazione della cavità orale con una fonte luminosa e seguito dalla certamento istopatologico se indicato questo è stato dimostrato da lavori importanti negli ultimi negli ultimi vent'anni come questo lavoro di Sankaranarayanan che è fatto in India su circa centomila persone il nostro Michele Mignogna di Napoli attualmente presidente della Sipmo ha scritto un editoriale che si chiama Screening del cancro orale 5 minuti per salvare una vita che parola sta ripresa poi dalle campagne statunitensi di 5 minute screening could save your life quale regola dobbiamo applicare dobbiamo applicare una regola molto semplice per riuscire a riconoscere precocemente una lesione pretumorale o tumorale la vecchia regola dei 14 giorni anche se fosse dei 21 come dicono gli Stati Uniti va bene lo stesso tutte le lesioni e alterazioni delle mucose orali che non si risolvono spontaneamente o con la rimozione degli irritanti locali entro 14 giorni devono essere sottoposte ad un accertamento diagnostico che nella maggior parte dei casi è la biopsia della lesione poi è chiaro che ci possono essere anche altri accertamenti si può andare verso si poi si fanno esami di imaging radiologici esami con la risonanza eccetera ma il primo accertamento di una lesione è la biopsia se c'è un dubbio fai la biopsia ci sono varie tecniche è una chirurgia semplice la biopsia bisogna avere ovviamente a disposizione la possibilità di far analizzare di portare il pezzo prelevato conservato in formalina da un anatomo in un dipartimento di anatomia patologica dove possa essere analizzato quando una lesione di questo tipo non è necessario aspettare 14 giorni o 20 giorni qui ci sono tutti i segni locali di malignità c'è una crescita indurita convulcerata sanguinante e la biopsia deve essere organizzata nel minor tempo possibile se non subito questa è una piccola lesione quando parliamo di diagnosi precoce è una macchia con una piccola lesione che poi rivedremo viene fatta la biopsia in questa zona più rilevata che vediamo bianca si evidenza un carcinoma iniziale a bassa invasività e viene fatto un piccolo intervento e questo è il risultato a distanza un paziente che non ha una giovane paziente peraltro di 35 anni che non ha avuto nessun deficit e nessuna conseguenza da questo intervento le raccomandazioni che vi ho detto sono le medesime che raccomanda ancora oggi per lo screening opportunista cioè quello che fa l'odontoiatra nel suo studio American Dental Association ci sono non è facile qualche volta riconoscere le lesioni ci sono delle tecniche ausiliarie si chiamano per screening e case finding una di queste tecniche è l'uso della colorazione vitale col blu di toluidina c'è la spettroscopia riflettenza che è la NBI che non c'è di solito nelle strutture odontoiatriche molto molto costosa decine e decine di migliaia di euro e c'è l'autofluorescenza o OFI che vuol dire Oral Fluorescent Imaging possono aiutare questi metodi ottici a riconoscere lesioni magari poco visibili come vediamo al centro c'è un'area più scura che all'NBI che è un carcinoma in situ l'imaging ottico a fluorescenza ha come vedete questa lesione è scura dove c'è quella parte che cresce perché la fluorescenza normale dell'epiteglio diminuisce se c'è displasia o cancro fortunatamente queste tecniche sono molto legate sono molto operatori dipendenti perché la fluorescenza diminuisce anche se in caso di infiammazione per esempio nella lingua geografica si vedono le chiazze scure quindi è una tecnica utile magari in mani esperte dove aiuta a scegliere dove fare una biopsia lo stabilo lo afferma anche Camille Farah che è una delle persone che ha studiato di più l'autofluorescenza che può aiutare ma non può sostituire la biopsia e l'istopatologia per la diagnosi definitiva questi sono dei casi un po' così in cui abbiamo adottato delle tecniche di ausiliari e qui la colorazione col bludito luidina e basta alla vostra sinistra dove si vede un paziente con una grossa leopoplachia dove prende la colorazione sono zone dove più probabilmente c'è displasia o carcinoma in sito e dove si va si sceglie di fare la biopsia invece perché se no la biopsia in una lesione così ampia non si saprebbe dove farla e in quest'altro caso che è una una signora di 73 anni in cui si vede la displasia c'è displasia esattamente in questo punto che ha preso il colorante e che manifesta la diminuzione della florescenza e qui l'abbiamo asportato questa lesione come adesso giusto per dirvi che ci sono un sacco di studi su queste cose per esempio l'analisi automatica delle immagini con la florescenza che migliorerà di sicuro la capacità di discriminazione e riuscirà a diminuire la soggettività di interpretazione le revisioni attualmente esistenti ci dicono però che il metodo migliore rimane l'esame visivo da parte di un osperatore sanitario che riesce a riconoscere la maggior parte delle lesioni tumorali se è un esame attento delle mucose la novità forse è rappresentata che sarà una novità dei prossimi anni però dalla biopsia liquida della saliva che vada a cercare biomarcatori del cancro nella saliva è ragionevole pensare che la saliva che bagna il tessuto normale o tumorale abbia dentro sostanze che possano essere un biomarcatore oncologico sia per la diagnosi che per la prognosi sono stati identificati parecchi biomarcatori proteici o di metabolismo o alterazioni genetiche o epigenetiche attualmente però queste tecniche sono tecniche molto ancora non disponibili specialmente per il fatto che devono essere identificati parecchi insieme per dare forza alla predittività di questo esame per dare più sensibilità e più specificità questo è un po' l'elenco dei vari markers genomici trascrittomici come gli mRNA specifici le interleuchine e recettori come il CD44 e altri marker un po' di studi ci sono sull'identificazione combinata insieme per esempio CD44 e proteine totali il CD44 è un recettore superficiale delle cellule che aumenta la sua espressione nelle cellule è il recettore per l'acido ialuronico nelle cellule tumorali è un marker abbastanza se indagato è abbastanza efficace nel riconoscere inizialmente il cancro di testa e collo anche dell'orofaringe mentre i pati delle proteine totali se usati insieme aumentano questa possibilità sono stati elaborate due piattaforme cioè l'obiettivo sarebbe quelle di avere le piattaforme point of care cioè a letto del paziente piuttosto che nello studio dontoiatrico un qualche cosa per cui il paziente si preleva un po' di saliva e ci dà una risposta ci sono due piattaforme commerciali che però in questo momento non sono ancora disponibili se non a scopo sperimentale che hanno delle sensibilità e specificità piuttosto importanti negli studi finora fatti ma che necessitano di studi futuri peraltro alcuni di questi studi sono in corso in Europa uno anche all'università che coinvolge l'università di Milano questo è un po' il riconoscimento di un paziente per esempio usando insieme più sistemi di ausilio uno è un laser che c'è che ha 405 nanometri è l'eccitazione della fluorescenza con il laser a 405 che ha diverse fluorescenze cioè sia rossa che verde e consente di vedere in questa lesione vedere queste aree insieme è stato testato uno di questi sistemi sulla saliva poi è stato fatto il prelievo e questo è il risultato dopo aver asportato il tumore il paziente non ha avuto praticamente alcun deficit quindi qual è il percorso diagnostico riscontro della lesione eliminazione degli irritanti locali prescrivere un colluttorio un gel antisettico un controllo entro 14 giorni il paziente guarito non era una lesione grave se la persistenza deve essere fatta una biopsia se la lesione è già presente da più di 14 giorni e ha dei segni locali di malignità non bisogna aspettare e può essere fatto subito il la biopsia deve essere fatta subito come fare come può fare l'odontoiatra per diminuire l'impatto della malattia e migliorare la sopravvivenza dei pazienti addirittura su un quotidiano su Repubblica era comparso un articolo da parte stimolato dalla collega Campisi di Palermo sull'auto di Angi guardarsi in bocca il primo passo per la prevenzione ma guardare in bocca anche da parte dell'odontoiatra curante esaminare almeno una volta all'anno le mucose orali ascoltare visitare accuratamente il paziente se riferisce un sintomo un segno eliminare le cause di trauma cronico prescrivere un colluttorio antisettico se è utile magari un lubrificante se il paziente è serostomico igiene orale professionale istruzione a mantenere un'adeguata igiene controllare entro due settimane se la lesione non è guarita fare o inviare a un centro dove può essere fatto l'accertamento istopatologico della lesione io con questo vi saluto con questa immagine che è il gruppo interdisciplinare di oncologia testa-collo dell'ospedale San Raffaele noi lavoriamo e ci troviamo e facciamo insieme e sempre i protocolli di trattamento dei pazienti con molti giovani questi sono i giovani specializzanti il professor Bussi il dottore Arrigoni il professor Trimarchi la dottoressa Mellone e la dottoressa Grever questa è una cosa che avevamo scritto insieme l'anno scorso pubblicata l'anno scorso in cui ci sono queste cose con cui vi ringrazio molto per l'attenzione e vi saluto caramente allora io ringrazio innanzitutto il professor Silvio Abati per questa splendida relazione devo dire che conoscendo Silvio da tanti anni così come lui prima ricordava ascoltarlo non duri mai è di fatto un relatore capace di interessare l'uditorio con relazioni precise chiare complete estremamente didattiche e sempre accompagnate da una bellissima e vasta iconografia quindi ancora grazie Silvio e poi dopo appunto al momento delle domande ci sentiremo ancora ora invece bisogna introdurre il dottor Carlo Resteghini che invece ci parlerà di aspetti sistemici delle patologie oncologiche e lascio perciò al dottor Vincent Rossi il compito di intervistarlo e poi appunto di seguirlo nella sua relazione grazie grazie Claudio io mi unisco ai ringraziamenti al professor Carlo Rossi al professor Silvio Abati che è stato anche un mio professore dell'università mi ha riportato con questa presentazione alla mia tesi ho fatto una tesi sulla sopravvivenza del cancro orale e ahimè ho notato che ahimè l'ho discusso 16 anni fa ho notato che la sopravvivenza purtroppo non è cambiata e quindi sicuramente c'è ancora molto da lavorare gli odontoiatri possono assumere un ruolo determinante in questo ora introduco il dottor Carlo Resteghini non lo vedo sono qui buonasera ci diamo del tutto sei giovane assolutamente mi permetto di darti del tutto ci mancherebbe benvenuto e grazie per appunto aver accettato questo invito a partecipare grazie a voi e ai organizzatori per questo invito perfetto niente io riporto esattamente le domande che facciamo appunto a tutti i nostri relatori che sono domande che vogliono andare un po' oltre quello che è l'aspetto puramente professionale e quindi parto chiedendoti dove sei nato allora io sono nato a Cernusco su una rio qui in provincia di Milano e sono praticamente sempre cresciuto intorno a Milano gravitando intorno a Milano ma studiando qui Lombardia quindi praticamente sempre a Milano spostandomi prima in Università degli Studi di Milano e poi da lì nel corso di medicina c'è stata a un certo punto verso il terzo anno a metà del percorso la possibilità di spostarsi in Humanitas che ancora faceva parte della statale dei tempi e quindi ho continuato il mio percorso e ho concluso il mio percorso universitario lavorando anche con quello che è uno dei miei grandi maestri che è il professor Mantovani Ti faccio alcune domande proprio riguardo adesso al corso di studi insomma al tuo percorso perché e quando hai deciso di specializzarti in oncologia qual è stata il diciamo il percorso è stato abbastanza lineare nel senso che appunto avevo seguito quello che appunto era il mio professor di patologia Mantovani lì in Humanitas per fare soprattutto un percorso di ricerca avevo poco nella testa di fare il clinico non era non ero tanto per quel mondo apparentemente poi in realtà quello che è successo è che ho capito che per andare a fondo degli aspetti anche di ricerca di base che comunque non ho mollato nel corso del mio percorso avere l'occhio sulla clinica avere davanti i pazienti anche come forma di motivazione era qualcosa di assolutamente utile quindi in maniera abbastanza naturale sono scivolato di nuovo dal laboratorio verso il reparto e quindi penso che questo sia proprio già una risposta alla mia prossima domanda anzi le mie due prossime domande cioè quello che reputi la cosa più bella della tua professione è quella che invece reputi un po' più triste della tua professione sì forse sono sono entrambe collegate nel senso che dicevo accennavo prima che avere davanti un paziente è qualcosa di chiaro spesso è a malattie evidentemente importanti notevoli che stanno nell'ambito dell'oncologia è allo stesso tempo motivazione fonte di frustrazione e può essere motivazione perché una quota comunque dei nostri pazienti può arrivare comunque a guarigione e questo è qualcosa che motiva in maniera veramente molto forte e allo stesso tempo ogni paziente che non raggiunge quell'obiettivo può essere diciamo sia motivazione che stimolo a rifarsi le domande ma chi me l'ha fatto fare dopodiché uno rifà tutto il percorso si ridice le ragioni e con quelle va avanti perfetto come pensi sia cambiata la professione e l'approccio al paziente negli ultimi anni se pensi che sia cambiato in qualche modo o sta cambiando anche in funzione proprio dell'ultimo periodo del covid assolutamente assolutamente io non ho una carriera lunga come tanti altri colleghi però negli ultimi dieci anni dove di fatto sono stato più a contatto con i pazienti ho visto cambiare tanto il paziente e la nostra professione forse nel mio ambito è cambiata nella misura in cui abbiamo voluto seguire il cambiamento dei pazienti i primi pazienti che avevo non avevo in mente cosa fosse una mail adesso non riuscirei a lavorare senza sono rientrato oggi da una settimana di ferie e la mail era esplosa perché è proprio diverso il paziente quindi cambia nel nostro modo complice anche la pandemia e tutto cambia il nostro modo di relazionarci a una persona che abbiamo davanti e che nel tempo cambia ok quindi immagino la comunicazione ecco questo bravo assolutamente la parola sintetica è la comunicazione allora ti faccio le ultime due domande cosa auguri ai giovani colleghi per il futuro e poi una domanda invece extraclinica quali hobby hai l'auguri di restare appassionati perché credo che sia un po' la chiave per superare quelle che sono le difficoltà che in ogni circostanza possono emergere e la passione quel percorso di ragioni che davanti alle frustrazioni ti porta a dire che cosa me l'ha fatto fare me l'ha fatto fare A, B e C e ripetere se averle chiare è sicuramente l'augurio migliore che posso fare a qualcuno che inizia avere chiaro le ragioni per cui ci si mette in moto e fra gli hobby considerando che il lavoro non lo posso chiamare hobby ma è qualcosa che mi ha passione quindi in qualche modo potrebbe rientrare su quello citerei il fatto che mi piace stare fra i fornelli è qualche cosa che mi rilassa mi riporta i tempi del laboratorio dove c'è da far andare le mani assieme alla testa c'è da mettere i tempi in fila per cui c'è da pensare con progettualità ma alla fine il risultato a differenza della ricerca è quasi sempre soddisfacente bene guarda ti ringrazio ci hai fatto venire anche fame a quest'ora assolutamente però siamo tutti molto attenti vogliamo almeno personalmente voglio veramente seguire la tua relazione quindi ti cedo la parola e grazie ancora grazie a te per l'introduzione allora vediamo se riesco a far partire nonostante l'ipoglicemia la presentazione spero si veda quello di cui vi parlo questa sera è qualche cosa che è tangenziale alla mia attività quotidiana io mi occupo di oncologia cervico-facciale e quindi diciamo sono un po' nel filone che il professor Abacca ha già esplorato esplorato e arrivo in quella fase in cui la patologia del camorale piuttosto che altre patologie del distretto sono andate avanti ma più che di questo nello specifico volevo affrontare questa sera un argomento che sia prettamente di interazione di interfaccia fra il mondo medico-oncologico e il mondo odontoiatrico io lavoro all'istituto nazionale dei tumori di Milano e il mio studio ambulatorio ha coincidenza di essere nella porta accanto a quello dello studio odontoiatrico dell'istituto perché abbiamo l'odontoiata da noi abbiamo questa grossa fortuna e appunto non a caso è sul nostro piano accanto a noi perché l'interazione è molto stretta infatti la parola che cercherò di ripetere più spesso durante questa presentazione è multidisciplinarietà è l'approccio multidisciplinare perché è qualcosa di fondamentale quando parliamo dell'argomento di questa sera cioè le ostone così delle osse macellari e mandibolari correlate ai farmaci quello che è il percorso di questa sera che vorrei seguire è riassunto qui nell'indice che tornerà nel corso della presentazione in modo da darvi un feedback su a che punto siamo quanto ancora manca e alla cena e quanto dobbiamo restare ancora qui davanti quindi dell'indice io partirei dal principio cioè di che cosa stiamo parlando cos'è questa questa osteonecrosi della mandibola partiamo dal principio è una storia abbastanza recente quello che è una delle prime primissime segnalazioni di questo tipo di problema è dal fatto 2003 quindi siamo già in questo secolo e un case report va a segnalare la presenza di diversi casi di pazienti esposti a farmaci di una stessa classe pamidronato e zeredronato cioè farmaci anti-riassolvimento osseo che presentano esposizioni osse della mandibola e dell'osso macellare con o entrambe con una clinica particolare da questo primo report si scatena poi tutto un percorso di molto intricato una foresta di terminologia definizioni e che evolvono all'evolversi della nostra conoscenza di questo tema man mano che andiamo a conoscere quali sono gli agenti causali di questo problema man mano che andiamo a conoscerne le problematiche a distinguere da altre situazioni potenzialmente analoghe è voluta quella che è la nostra definizione del problema fino ad arrivare a quello che in inglese chiamiamo medication related australian crisis of the Joe questo aspetto partendo dalle definizioni e andando in avanti per tutto quelle che sono i prossimi capitoli lo andrei ad affrontare guardando in parallelo due delle grossi fonti di informazioni che possiamo avere su questo tema che sono uno questo position paper dell'associazione americana dei chirurghi orali maxillo facciali la cui ultima release è del del 14 dove la definizione del problema delle osteonecrosi medication related è qualificata come un quadro clinico caratterizzato dall'esposizione ossea all'interno del cavo orale che non va a guarire nell'arco di otto settimane in pazienti che sono stati trattati con farmaci noti per dare questo tipo di problematica come effetto collaterale e che non sono stati trattati con radioterapia in precedenza questa definizione è quindi se la vediamo scorporare è composta da un aspetto di anamnesi medica sul tipo di trattamento medico assunto e trattamento radioterapico non effettuato e dall'altro lato c'è una valutazione clinica che è richiesta quindi non solo anamnesica ma anche clinica con il dato dell'esposizione ossea o eventualmente anche di una presenza di un tragitto fistoloso questi due aspetti sono chiave per la diagnosi di questo quadro secondo quelle che sono appunto il documento americano se però ci spostiamo a casa nostra questo è uno dei documenti che andrò a citare più spesso nell'arco di questa serata ed è le raccomandazioni clinico e terapeutiche su questo aspetto dell'osteone così mascellare stilate della società italiana di chirurgia maxilio facciale e della società di patologia e medicina orale il documento italiano si differenzia dal punto di vista da quello americano per un aspetto abbastanza sottile che poi proverò a sottolineare che è e questa è la definizione che dà del problema cioè anzitutto partiamo dal dire che più che un quadro clinico eccetera è una reazione avversa questo dell'osteone così farmaco relata è una reazione avversa a una terapia quindi da qui introduciamo già il fattore già presente alla definizione precedente della necessità di un'esposizione a un specifico tipo di terapia e in questa definizione quando diciamo caratterizzata dalla progressiva distruzione necrosi partiamo dal passiamo a quello che è un percorso diamo l'idea di una progressione di un percorso clinico senza dare pronti via il quadro osseo dell'esposizione data stringente come era nella definizione precedente in questo senso quindi dalla definizione italiana quello che possiamo vedere è un un tema di alcuni criteri di inclusione alcuni criteri di esclusione legati alla diagnosi di questa problematica fra i criteri di inclusione quello che sicuramente riconosciamo è l'esposizione farmacologica ma introduciamo anche il fatto che occorrona una diagnosi clinica e radiologica di progressiva distruzione del comparto osseo mentre fra i criteri di esclusione abbiamo già citato in precedenza il tema della radioterapia radioterapia del distretto testacollo è il mio pane quotidiano farò di tutto per cercare di non rientrarci di non far entrare nella finestra questo che è ben detto è un criterio di esclusione per quello che riguarda il problema dell'oste necrosi legato ai farmaci viene posto come diagnosi differenziale giustamente il tema delle possibili metastasi osse a livello delle ossa marcellare mandibolari questa slide ha un intento quello di andare a porre l'attenzione facendo un po' le pulci alla definizione della società americana relativamente al tema dell'esposizione ossea questo è un lavoro importante che valuta fino a quasi un centinaio di pazienti con un quadro di osteonecrosi associata a bifosfolati che non presentava clinicamente una esposizione ossea e quindi una casistica consistente multicentrica dove le manifestazioni dell'osteonecrosi sono variegate dal dolore osseo piuttosto che al riconfiamento aspetti radiologici motività dentale ma solo una quota parziale di questi casi che aveva radiologicamente una osteonecrosi legata bifosfonati senza esposizione ossea è andata poi a manifestare questa esposizione ossea che è parte della definizione diagnostica data dalla società americana in questa casistica multicentrica appunto circa la metà dei pazienti andava poi a evolvere verso un'esposizione ossea che è qualcosa successivo nella storia clinica di questa problematica ma una quota consistente attorno alla metà appunto non presentava questo tipo di problema quindi questo pone un aspetto che è collegato al secondo punto della nostra esposizione sul tema della stadiazione desidero dare solo dei cenni di stadiazione questo perché perché venendo poi io come formamenti dal mondo oncologico per me la stadiazione è qualcosa di molto preciso che va a identificare gruppi di pazienti omogenei per prognosi se parliamo di prognosi omogenea quel gruppo di pazienti avrà una propria stadiazione quando parliamo di un aspetto come quello dell'osteonecrosi quello che intendiamo con stadiazione è più un tema di estensione che spesso nel mondo oncologico correla con un tema prognostico ma qui l'estensione ha più a che fare col tipo di trattamento proponibile quindi la stadiazione vedremo tenderà a correlarsi con aspetti terapeutici non con aspetti prognostici questa è la prima sottolineatura che volevo fare ma volevo anche sottolineare il fatto che di questo mi sono confrontato preparando questa relazione con un caro collega il dottor Marco Guzzo che è il Maxilio Facciale da noi in istituto che tempo fa ha fatto una relazione appunto sul tema delle stadiazioni dell'evoluzione delle stadiazioni delle osteonecrosi mandibolari e il tema dell'evoluzione delle stadiazioni riflette il fatto che non siamo ancora univoci sulla definizione diagnostica non siamo ancora univoci sul tema esposizione ossea o meno e quindi qui vi riporto quella che è la stadiazione delle società italiane che comprende un'osteone così focale diffusa o complicata a seconda di un tema di estensione ma se andiamo sul mondo americano quello che vediamo è un'introduzione di un quarto incomodo che è questo stadio zero dove vengono identificati quei casi senza l'esposizione ossea ora questa esposizione ossea è così importante se è dentro nella definizione per gli americani ma se è così importante perché andiamo a identificare anche uno stadio zero dove questa esposizione ossea non è presente sono domande che si fanno anche loro infatti c'è questo paper del 2015 quindi successivo al position paper della società americana in cui si va a chiedere effettivamente do we need a stage zero ne abbiamo bisogno forse no quindi dicevo ceni di stadiazione perché dal mio punto di vista è un mondo in evoluzione stiamo comunque parlando di una patologia che ne succede un ventennio di vita quindi già incasellarla in tanti cassetti diventa un po' complicato ancora un po' troppo giovane e quindi se siamo appassionati di stadiazione ce la andiamo a studiare sulle varie linee guida ma non credo che sia il fuoco su cui concentrare la nostra attenzione questa serata concentrerei invece di più e darei più tempo a quello che è il tema della rilevanza di questo problema di epidemiologia cioè di quanti pazienti parliamo è un problema rilevante o ci stiamo facendo problemi su qualcosa di extra raro allora anzitutto per capire le proporzioni del problema quello che dobbiamo fare è andare a vedere quelle che sono le fonti disponibili e per quelli che sono questi farmaci che possono portare a causare l'osteonecrosi la stragrande maggioranza di questi farmaci è transitata da uno studio randomizzato dai quali possiamo desumere dei dati prospettici e accurati su quelle che sono le tossicità e quindi ci aspettiamo che questi studi randomizzati possano restituirci un dato puntuale su quella che è la stima di incidenza e prevalenza di queste problematiche ci sono poi studi osservazionali che è il SIRES che possiamo andare a considerare come studi sistemici di popolazione partendo da registri di patologia e che vadano anche a registrare quelli che sono poi possibili con potenziali complicanze dei trattamenti studi retrospettivi specifici su database di alcune istituzioni o di vari sistemi sanitari e da ultimo possiamo anche andare a consultare delle survey se abbiamo quesiti specifici su popolazioni specifiche da questo genere di dati quello che possiamo desumere sono alcune prime informazioni la prima è qual è la popolazione che va a rischiare un'oste necrosi medication related sono prevalentemente quei pazienti oncologici ed ematologici che vengono esposti appunto ai farmaci che poi vedremo nello specifico capaci di creare e di causare questo tipo di complicazione oltre a questi pazienti nell'ambito di questi pazienti ematologici sono due grosse classi quelli che fanno trattamenti anti-riassorbimento osseo quelli che fanno invece un'altra classe trattamenti anti-angiogenetici per dirla diciamo con una categorizzazione molto ampia c'è un overlap fra queste due prime categorie perché non è affatto peregrina l'ipotesi che il paziente faccia entrambi i farmaci c'è inoltre una quota di pazienti oncologici che è esposta a questi farmaci con dosaggi e modalità differenti in particolare quelli del riassorbimento osseo non tanto per problematiche scheletriche legate alla diffusione della malattia ossea ma fa trattamenti di questo tipo a scopo preventivo della patologia osteometabolica quindi per esempio un paziente con ciamammario che va a fare un trattamento ormonale magari in età giovane quindi preme una pausa che porta potenzialmente a un depomperamento osseo può essere giustamente indicato un trattamento con fosfonati farmaci antiriassorbimento e questo può nel tempo esporla a un tema di osteonecrosi e da ultimo c'è una ancora più ampia categoria di pazienti non oncologici che appunto per gli stessi motivi appena citati cioè per il trattamento della patologia osteometabolica va a essere esposta ai farmaci antiriassorbimento osseo quindi da questa slide capiamo che la platea potenzialmente interessata da questo problema è tutto meno che piccola sono pazienti che incontriamo quotidianamente anche in nostri studi di odontogatria perché pazienti anziani la popolazione generale invecchia questo porta ad avere più pazienti oncologici da un lato e comunque paziente anziano è paziente che più facilmente va incontro a una patologia osteometabolica e quindi più facilmente potrebbe essere in trattamento con farmaci antiriassorbimento entrando un pochino più nello specifico sui numeri quando parliamo di bifosfonati ed enosma cioè farmaci antiriassorbimento più frequentemente impiegati quello che abbiamo come dato della letteratura che ci restituisce sul tema dell'incidenza è che il trattamento con questi farmaci può portare a un rischio che uscilla fra l'uno e il dieci per cento a due anni di osteonecrosi legata a questo tipo di terapia la forbice fra l'uno e il dieci per cento a due anni è bella ampia perché abbiamo una forbice così alta perché se la platiera è così ampia come dicevamo prima non abbiamo una stima più puntuale perché effettivamente non non sempre vengono riportate per esempio sul portale a farmacovigilanza tutte le relazioni avverse ai farmaci e questo già di per sé porta a un missing di un'informazione che ci permette di stimare meno e due perché questo è uno degli aspetti fra i tanti e due perché l'altro maggiore che cito c'è il tema del tempo o nel tempo questi farmaci possono portare al problema e spesso magari ci capita di non osservare a sufficienza il paziente per poter osservare poi quello che è la manifestarsi della problematica legata a terapie magari di anni prima per quanto riguarda invece pazienti non oncologici questo che dicevamo prima fra l'uno e il dieci per cento due anni era legato ai pazienti oncologici pazienti non oncologici tendono ad avere un rischio molto molto minore e questo è legato a una serie di fattori che andremo a vedere nello specifico ulteriore quando parliamo di farmaci antiassorbimento c'è un riportato un rischio maggiore per denosumab rispetto ai bifosfonati che più comunemente vengono impiegati e questo rischio è riportato essere circa 1.6 volte quello di bifosfonati per denosumab questo è un dato che è riportato c'è e alcuni studi di real life tendono a suggerirlo soprattutto quando magari il paziente è esposto ad denosumab dopo aver già fatto i bifosfonati come l'acido zooledronico va detto che però questo dato potrebbe essere anche un bias legato al fatto che questo aumentato rischio si è visto in una meta-analisi che riportava soprattutto tre studi in cui denosumab era stato impiegato e l'augmentato rischio è stato visto in pazienti con carcinoma post-antico senza metastasi osse che effettivamente rispetto agli altri due studi era un po' un outlier per cui è un dato da prendere dire che c'è lo registriamo ma ancora metterci la mano sul fuoco forse è un po' presto dicevamo prima che non sono solo i farmaci antiriassorbimento osseo quelli potenzialmente coinvolti nell'insorgere di un'osteonecrosi alcuni diciamo altri farmaci della categoria antivascolare che qui in parte sono elencati sono stati segnalati come potenziali agenti causanti l'osteonecrosi su questi sembra paradossale perché sono farmaci più studiati dal punto di vista oncologico e più indagati in studi randomizzati ma questi farmaci per questi farmaci abbiamo meno dati di letteratura relativamente a questo tipo di complicazione va detto che una delle cose che sappiamo è che il rischio di osteonecrosi tende ad aumentare in maniera molto significativa quando a questa categoria di farmaci antivascolari tirosinchinasi piuttosto che mtoro inibitori andiamo ad associare i farmaci antiriassorbimento quindi se a fattori di rischio andiamo a sommare a fattori di rischio quello che succede è che aumentiamo nettamente il rischio per il nostro paziente i tempi di insorgenza tendono ad essere minori quando parliamo di questo tipo di farmaci rispetto ai farmaci antiriassorbimento e questo ci sta con il meccanismo di azione dei farmaci antiriassorbimento che hanno un'emivita a livello dell'osso molto molto lunga e da ultimo un altro dei fattori che va segnalato è che fortunatamente la sopravvivenza almeno per alcune classi di pazienti oncologici sta tendendo a aumentare nel tempo e questo porta due aspetti uno è un'aumentata tempo di osservazione osserviamo di più i nostri pazienti avremo più tempo per vedere verificarsi attualizzarsi un potenziale rischio di effetto collaterale in questo caso l'osteonecolosi e dall'altro aumenta anche l'esposizione maggiore sopravvivenza maggiore tempo in cui il paziente resta esposto a farmaci potenzialmente nocili appunto di fattori di rischio entriamo nel tema dei fattori di rischio e facciamo un bel elenco di quelli che possono essere i farmaci correlabili al tema dell'osteonecrosi dell'osso mascellare mandibolare qui un elenco di farmaci caratterizzato da due gruppi principali dicevamo anti-riassorbimento l'abbiamo detto più volte principalmente i bifosfonati acido zoledronico pavidronato e denosumab farmaco più recente è un'altra classe di farmaco rispetto ai bifosfonati anche se il tema diciamo di attività l'anti-riassorbimento osseo l'alterazione del metabolismo osseo per favorire un consolidamento della matrice ossea c'è un minore di pauperamento è la stessa dei bifosfonati perché è diverso perché in questo caso stiamo più parlando di una molecola chimica che va a legarsi ad idrossiapatite come è il meccanismo di azione dei bifosfonati ma il denosumab è un anticorpo monoclonale che va a targettare la via di rank attiva nel processo di distruzione ossea degli osteoclasti analogo a questo l'attività di denosumab c'è un ulteriore farmaco ancora più nuovo di denosumab che è romosuzumab anche questo anticorpo monoclonale impiegato a differenza di denosumab e di bifosfonati esclusivamente meno in questo momento per quello che riguarda la patologia osteometabolica mentre denosumab e bifosfonati a diversi dosaggi diverse schedule di somministrazioni sono farmaci impiegati sia per il paziente osteometabolico che dosaggi più alti più frequenti per il paziente oncologico con metastasi osse per la prevenzione di eventi scheletrici cioè sostanzialmente fratture la categoria invece dei farmaci antigeniocenetici è anche qui sfaccettata presenta diversi componenti fra i farmaci che sono stati associati nel tempo a osteonecrosi della mandibola tra questi ci sono sicuramente Bevacizuamber come capofila di quelli che sono i farmaci prettamente antivascolari anticorpi monoclonali che vanno contro VEGF quindi il fattore di stimolazione principale per la neoangiogenesi e quindi farmaco antitumorale impiegato in svariate patologie fra tutte per esempio il colon o un'ulteriore categoria quella delle TKI cioè delle tirosinchinase inhibitor fra questi i farmaci più citati per quello che riguarda l'osteonecrosi della mandibola sono farmaci come cabozantinib e sonitinib questi sono farmaci impiegati nella patologia renale cabozantinib impiegato adesso anche nella patologia tiroidea che è una di quelle che vedo quotidianamente con più frequenza ed effettivamente non non sono rare le le istanze di osteonecrosi abbiamo già avuto modo di apprezzare con con questi tipi di farmaci consideriamo poi come ultima classe di questi farmaci come grosso cappello antiangiogenici anche se hanno attività poliedriche molti fattori lavorano su molti fattori gli mTOR inibitors come tensirolimus e verolimus anche questi sono farmaci che sono stati associati all'osteonecrosi fra gli agenti che abbiamo appena citato c'è diciamo prima qualcuno che potrebbe avere più rischio di altri come dicevamo denosumab abbiamo alcuni aspetti che costituiscono dei fattori di rischio che possiamo evidenziare ulteriormente fra questi la somministrazione endovena rispetto alla somministrazione per os è sicuramente qualche cosa che è stato osservato come maggiormente a rischio e questo anche perché la somministrazione vi è associata a un dosaggio aumentato maggiore rispetto a quella che è la somministrazione per os banalmente dei farmaci come i bifosfonati quindi alte dosi in vena sicuramente è un campanello d'allarme la tipologia di farmaco a che qui gioca per esempio fra la classe di bifosfonati abbiamo comunque delle differenze quindi pamidronato e zaledronato che sono bifosfonati contenenti azoto questo gruppo azotato tende a dare una maggiore potenza ad azione al farmaco ma tende a conferire anche alcune caratteristiche che poi vedremo nella patogenesi dell'osteonecrosi possono caratterizzare un maggiore rischio e da ultimo dosaggio durata e frequenza delle somministrazioni quindi dose cumulativa è sicuramente qualche cosa che può essere categorizzata come un fattore di rischio maggiore altri aspetti non solo legati ai farmaci ma legati al soggetto possono essere identificati come fattori di rischio fra questi uno dei temi da citare è quella che è la patologia di base spesso per quello che riguarda le osteonecrosi farmaco correlate abbiamo davanti pazienti oncologici 9 pazienti su 10 saranno o più saranno pazienti oncologici e spesso sono i soliti sospetti carceroma ammario mieloma multiplo carceroma prostata questo perché è nella storia naturale di queste malattie oncologiche quella di dare localizzazione osse che vengono trattate con farmaci potenzialmente a rischio di osteonecrosi e questo inevitabilmente aumenta il rischio qui non ho citato ma comincerei a citarli almeno perché vi restino nelle orecchie patologie come appunto diciamo prima tumori della tiroide tumori del rene la sopravvivenza di questi pazienti tiroide e rene è progressivamente in aumento e questo aumenterà la platea di questi pazienti potenzialmente esposti a questa problematica quindi da tenere in testa come bit per il futuro copatologie come fattori di rischio sono state descritte non su tutte ci possiamo mettere la mano sul fuoco perché spesso sono magari solo associazioni che hanno molto senso come per esempio l'osteoporosi o l'anemia che è spesso presente in pazienti oncologici o l'osteoporosi appunto in pazienti in trattamento con bifosfonati ma non necessariamente sono fattori di rischio diretti per quello che riguarda la patogenesi così come la terapia steroidea chemoterapia tapagismo età senso femminile sono tutti fattori citati ma via via con minori evidenze per qualificare come veri e propri fattori di rischio fattori di rischio che potremmo classificare sia come sistemici come facciamo prima ma anche come locali ci sono aspetti locali specifici che aumentano il rischio di osteonecrosi da farmaci e in particolare il tema delle condizioni odontoiatriche di base del nostro paziente le conduzioni parodontali e la sua abitudine di generale e allo stesso tempo fra gli eventi locali c'è il cosiddetto evento trigger qua cominciamo a introdurlo e lo riprenderemo più avanti come evento trigger intendiamo che cosa un evento traumatico invasivo sull'aspetto della dentatura e dell'osso dove alloggiano le radici che possa portare all'innescarsi del processo di necrosi correlato ai farmaci che va a dare il là a tutto il patatrache che poi si va a manifestare interessante vedere come l'estrazione dentale sia a base di più di due terzi dei casi di osteonecrosi e farmacorelate e partiamo da un punto di patogenesi non ci andavamo adesso parlando di evento trigger e ne entriamo un attimino in questo tema perché questi farmaci possono andare a dare questi fenomeni sicuramente ci sono aspetti di alterato turno over osseo un'eccessiva soppressione del turno over osseo un osseo meno plastico meno capace di reggere gli stimoli può arrivare a sviluppare una necrosi un'infezione specifica di qualche agente può sicuramente essere all'origine di un processo infiammatorio cronico regolato l'immunomodulazione che alcuni di questi farmaci citati può portare gioca sicuramente un ruolo l'attocicità diretta di questi farmaci sui tessuti molli può avere un super che è anche evidentemente l'inibizione dell'angiogenesi che è uno dei meccanismi in relazione di questi farmaci ha il suo ruolo ma elencati questi fattori abbiamo chiarito tutte le domande direi di no perché ci sono alcune domande che restano assolutamente aperte fra queste perché l'osso mandibolare più di altri ossi sono farmaci questi sistemici quindi vanno ovunque perché non altre osse ma l'osso mandibolare va a sviluppare questo tipo di problema qual è la ragione per cui vediamo differenti rischi rischi di osteonecrosi con differenti agenti che ruolo ha questo evento trigger che abbiamo citato da poco per provare a rispondere a alcune di queste domande partiamo da alcuni dati sicuramente chiari ci sono delle caratteristiche specifiche dei bifosfonati dicevamo alcuni di questi bifosfonati tendono ad essere più più a rischio di osteonecrosi dicevamo quelli con gruppo azotato qual è la caratteristica che hanno questi farmaci è che sono farmaci assolutamente affini ai drossiopatite tendono a legarci sia anche per per anni hanno emibiti in alcuni casi con alcuni dosaggi anche attorno al decennio ma ci sono aspetti come il microambiente acido che tendono a facilitare la liberazione del bifosfonato dalla matrice ossea portando la sua concentrazione che mediamente è nel microambiente libero molto bassa perché è legata e coniugata alle drossiopatite quindi incementata letteralmente nelle nostre ossea quindi un microambiente acido tende a liberare il bifosfonato aumentando in maniera sproporzionata e sicuramente non proporzionata a quelli che sono i dosaggi a cui siamo abituati con le somministrazioni regolari aumenta molto quindi il microambiente acido la concentrazione di bifosfonato e questo porta a tutta una serie di danni successivi ci sono delle caratteristiche diciamo dell'osso mandibulare che lo differenziano dagli altri osse dalle altri segmenti osse e che quindi lo espongono maggiormente a questo sviluppo di tossicità farmacospecifica direi di sì c'è un tema della parodontite che tende ad aumentare come frequenza della problematica con l'aumentare dell'età e noi sappiamo che il tema infiammazione è intrinsecamente correlato a un microambiente più acido che quindi può favorire una liberazione di bifosfonati e quindi una loro maggiore concentrazione a livello del microambiente e da ultimo se riescono a saltarla un altro aspetto quindi della patogenesi può essere visto in questo modo come una cascata di eventi che parte da una acidificazione dell'ambiente osseo che porta a un aumentato rilascio a livelli tossici di bifosfonati portando quindi a un'azione su osteoclasti di soppressione del rimodellamento eccessiva quindi meno plastico l'osseo un'alterazione della risposta immunitaria dell'angiogenesi che porta anche all'ischemia un aumentato rischio di infezione una tossicità di retrasso i tessuti e tutto questo catena di eventi può favorire l'innescarsi di una dei nostri necrosi stiamo parlando però di soprattutto di bifosfonati quindi ci sono aspetti degli altri farmaci che in parte sono considerati quindi l'aspetto vascolare l'aspetto immunitario ma non tutto ci torna ancora dalle evidenze che abbiamo però sappiamo che appunto ci sono questi trigger questi fattori come l'acidità legata all'infiammazione cronica che sono fattori assolutamente impattabili possiamo fare qualcosa su questi fattori che rientrano alla patogenesi e quindi questo pone le basi per tutto quello che è lo sviluppo di misure preventive misure preventive a cui arriveremo fra un attimino volevo solo dare dei ceni diagnostici per seguire il filone che ci siamo dati fra i ceni diagnostici torno a fare una sorta di parallelismo fra quelle che sono le indicazioni della società americana e quelle italiane ci sono sicuramente aspetti di valutazione clinica quindi con un tema di raccolta amnestica accurata e di valutazione clinica con la presenza di segni caratteristici come l'esposizione ossea la mobilità dentale eccessiva presenza di parestesie legate all'involgimento di rami del mandibolare dell'infraorbitario l'imaging dal punto di vista dell'americano è considerato come qualcosa di supporto non dato esplicitamente indispensabile così come la biopsia non è ritenuta necessaria per quanto riguarda invece le indicazioni italiane sicuramente vengono segnalati questi che sono i sintomi che dicevamo prima con l'esposizione ossea data come sintomo principe sicuramente il più eloquente fra i vari segni e sintomi che possiamo andare a ricercare ci sono però aspetti anche radiologici che vengono indicati dai colleghi italiani che vengono dati sostanzialmente come da ricercare questo perché perché è vero che se vogliamo dal punto di vista americano la diagnosi è più clinica che radiologica ma non credo che esista caso di osteonecrosi in particolare farmacorelata che non dove non sia raccomandata una valutazione di imaging quantomeno con una banalissima panoramica dentale e poi a seconda del tipo di estensione della difficoltà diagnostica eventualmente con un secondo livello con la TAC che può essere con B in multistrato come la preferiamo a seconda di quello che è il quesito specifico che ci andiamo a porre e questi sono passaggi diagnostici indispensabili anche per andare a fare una diagnosi differenziale davanti alla quale ci potremmo trovare con problematiche tipo di localizzazione di malattia metastatica e questo di fatto pone la necessità di fare degli approfondimenti e il tema della diagnosi differenziale con una malattia metastatica è qualche cosa che potrebbe spingere fino appunto all'accertamento bioptico per inquadrare definitivamente il quadro che abbiamo davanti prevenzione anche su questo vorrei spendere un po' più di tempo rispetto alle altre sezioni e questo è legato al fatto che qua diventa il punto cruciale del nostro percorso multidisciplinare cioè da oncologo vengo a parlare qui di questo argomento perché qui il tema dell'interazione diventa cruciale se io sto per prescrivere da oncologo un trattamento anti-riassorbimento osseo o so che un paziente che sta facendo questo tipo di trattamento va ad aggiungere fattori di rischio come altri farmaci anti-endogenici TKI o quant'altro che possa dare questo tipo di di complicazione ecco che non posso prescindere da un'interazione con il collega odontoiatra da oncologo non posso non farlo e io ripeto ho questo grosso vantaggio logistico di poter bussare alla porta del mio vicino che è l'odontoiatra e infilare il paziente in poltrona in quattro passi ma è qualche cosa questo che dovrebbe veramente diventare abitudine quotidiana dei miei colleghi oncologi e direi estenderei la platea di chi deve avere questo a mente anche a chi magari va prescriveva appunto farmaci antiriassolumento osso anche solo a scopo osteometabolico in pazienti anziani che hanno necessità di per osteoporosi particolarmente severe di trattamenti orali con bifosfonati o anche con denosmob eventualmente e quindi banalmente anche un medico di base può essere assolutamente coinvolto deve avere il trigger mentale di pensare a guardare in bocca al proprio paziente a dire ma come sono le sue condizioni ma quando l'ultima volta hai dato al dentista il suo dentista sa che sta facendo questi trattamenti ne ha parlato con il suo dentista eccetera tutte domande assolutamente banali ma da fare e quindi l'interazione multidisciplinare è la cosa che vorrei stressare su qui su questo punto con delle raccomandazioni molto molto chiare che vengono date dalle nostre società italiane che sono quella di andare per i pazienti con patologia oncologica a valutare sempre prima dell'inizio dei trattamenti ante l'assorbimento lo stato di salute odontoiatrica parolontale con la valutazione con la panoramica per vedere quelli che possono essere i potenziali inquadrare quello che è potenziale il rischio paziente specifico secondo tutti quelli che sono i fattori elencati in precedenza e per capire anche se c'è modo di trattare adesso qualcosa che potenzialmente dovremmo andare a trattare anche fra uno due anni o anche più in là come tempo perché è qualche cosa questo che conoscendo l'emilita di questi farmaci conoscendo quello che potrebbe essere una sopravvivenza magari medio-lunga di questi pazienti penso pazienti con mieloma pazienti con prostato o tumore al seno anni di sopravvivenza non sono qualcosa di inaudito anzi e questo deve porre la nostra attenzione sul prevenire potenziali danni vale anche questo tema per la patologia osteometabolica dove è meno stringente il timing della valutazione odontoiatrica non è diciamo indispensabile che questo venga fatto prima della via del trattamento tutto sommato si può fare anche nei primi sei mesi semplicemente non possiamo dimenticarcene è qualcosa che va assolutamente preso in considerazione e sono disponibili supporti anche molto molto semplici e sintetici come questa scheda che possiamo sottoporre ai nostri pazienti in un studio odontoiatrico per andare a valutare quelli che sono i principali sintomi e fattori di rischio sintomi e segni delle problematiche di cui stiamo parlando un micro screening di questo tipo ai nostri pazienti più potenzialmente a rischio ci può dare un inquadramento più appropriato paziente specifico post terapia il paziente ha fatto il suo percorso di magari due anni di trattamento antirissolumento osseo e ha sospeso è andato in vacanza terapeutica come spesso si dice o un paziente che ha fatto trappia per il tema osteometabolico una MOC che si è stabilizzata e tutto sommato possiamo sospendere il trattamento cosa facciamo con questi pazienti continuiamo assolutamente a seguirli perché sappiamo che questi farmaci sono lunghe latenze nell'osso e questo porta a doverli seguire nel tempo ogni quattro mesi per quanto riguarda i pazienti oncologici e anche ogni sei mesi per la patologia osteometabolica è possibile andare a sospendere questi farmaci in occasione della necessità di procedure invasive che avremmo voluto anticipare con le valutazioni basali ma evidentemente possono insorgere la necessità in corso d'opera e questo porta alla necessità di dover ragionare su come non far diventare la nostra procedura un evento trigger qualche cosa che scateni la problematica poi e sulle nostre linee guida italiane sono riportati chiaramente vari specchietti di timing per le sospensioni prima di procedure invasive sia per la sospensione sia per quando riguarda la ripresa ripresa che non deve essere affrettata possiamo far passare un mese un mese e mezzo prima di dare la procedura odontoiatrica invasiva prima di ragionare sulla ripresa del farmaco in questo senso lo possiamo fare anche per quanto riguarda pazienti che sono in trattamento sia oncologico che allo specchietto precedente sia per quello che riguarda la patologia osteometabolica dove però vuoi i dosaggi più bassi la frequenza di somministrazione inferiore per alcuni farmaci come per esempio denosmob non è prevista l'indicazione stringente per una sospensione anche se l'indicazione alla prudenza non passa mai che cosa possiamo permetterci di fare pre-terapia anti-riassorbimento osseo e post-terapia sostanzialmente le stesse cose per quanto riguarda trattamenti non chirurgici e procedure chirurgiche tenendo sempre a saldo il principio che tutto quello che è tendenzialmente invasivo è qualche cosa di controindicato quindi ragionare su impianti sia nell'immediato pre-terapia sia nel post-terapia è qualche cosa di sconsigliabile vado molto rapido sui cenni di terapia per non rubare spazio alle domande e vi riporto quelli che sono appunto gli specchietti terapeutici segnati nelle linee guida italiane io non mi occupo strettamente di chirurgia mi occupo più di farmaci quindi non entro uno specifico degli aspetti chirurgici legati al trattamento di queste di questi quadri di necrosi ossea trattamenti che sono comunque più focalizzati e si possono limitare un correttage piuttosto che una chirurgia reseptiva marginale nei casi più limitati diventano chirurgie veramente complicate anche più complicate di quelle che sono le chirurgie prettamente oncologiche demolitive ricostruttive nei casi in cui l'osteonecrosi sia molto molto complicata e questo perché ci troviamo in tessuti molto infiammati dove anche l'attecchiere di un lembo chirurgico può essere qualche cosa molto problematico e allora la cosa che vorrei sottolineare è che comunque esistono dei pilastri che non vengono mai meno che sono aspetti di terapia antisettica topica con coltori a base di clorexidina anche abbastanza concentrati piuttosto che terapia antibiotica e chiaramente la sospensione della NOX della gente che ha generato questa problematica che per pazienti oncologici magari stanno facendo trattamenti magari anche in risposta a trattamento come a me personalmente è capitato a pazienti che stanno facendo cabozantini in risposta che ha avuto una problematica di osteonecrosi e questo ha portato a dover sospendere un farmaco che stava funzionando doverci accelerare su una chirurgia importante con un paziente che ci tornava ad andare in progressione per il farmaco sospeso tutto questo ha portato evidentemente molto stress e implica una coordinazione multidisciplinare stringente per cui non solo la porta accanto il mio collega non togliatra ma due porte più in là ho il maxilo facciale che posso andare a stressare per dirgli guarda che questo paziente me lo devi operare prima dei pazienti oncologici perché se no non posso riprendere neanche il resto dei trattamenti quindi è tutto un gioco di connessioni accenno anche al fatto che esistono trattamenti non chirurgici alternativi alla chirurgia o complementari meglio dire alla chirurgia che possono limitare il processo infiammatorio sui quali però esistono evidenze un po' più scarse meno consolidate fra questi cito lo zanoterapia che è qualche cosa che utilizziamo in istituto devo dire con buoni benefici sono trattamenti che non vanno a sostituire del tutto il trattamento chirurgico ma possono essere sicuramente di supporto a questo vi ringrazio per l'attenzione e lascio lo spazio per le domande wow anche il secondo l'attore un grande wow l'audio non ti si vede però bene eccoci eccoci qua complimenti Resteghini grazie se il professor Abati amico carissimo è stato estremamente come dire didattico e molto puntuale ma lo conosciamo da tempo devo dire che la tua relazione è stata altrettanto come dire nella brevità del tempo che ci hai concesso estremamente interessante molto coinvolgente molto coinvolgente perché ovviamente le cose che hai detto ci riguardano tutti in prima o in seconda battuta io personalmente in prima battuta anche purtroppo per me ma è molto affascinante perché perché la vita deve proseguire e perché si scoprono cose interessanti come hai detto tu giustamente siamo nel nuovo millennio nel nuovo secolo e sono cose recenti sono cose che conosciamo da pochissimo ma per nostra fortuna siamo in grado anche di raccogliere tanti dati quindi ti ringrazio moltissimo di questa relazione ci sarebbe una domanda che è stata fatta per te se posso una collega chiede a proposito di inibitori della tirosinchinasi se possono essere considerati come farmaci target in qualche modo per quanto riguarda la possibile osteonecosi cioè come se le tirosinchinasi provo a capire se ho capito bene la domanda se le tirosinchinasi in generale come classi sono farmaci tardi più 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 nello specifico ti definisco un attimo qual è stato il farmaco che tu peraltro avevi indicato che era se non ricordo male non ricordo male l'imatinib mi pare che tu l'abbia citato a un certo punto in uno specchietto o in uno dei specchietti iniziali l'avevo forse visto però non onestamente vado a ripescarmi lo specchietto per non essere impreciso visto che poi tutto è registrato e quindi ci facciamo figure da gelatai allora scusate se intervengo che ah eccola qua hai visto una cosa la mia domanda è molto precisa molto puntuale cioè l'imatinib nello specifico che è un antineoplastico che fa parte delle delle TKI esatto volevo sapere se ci fosse in merito a questo farmaco specifico della letteratura riguardo sempre ovviamente in questo tema seguendo questo allora che io ricordi no ma posso andarlo a rivedere nel senso che non tutte le TKI hanno questo tipo di potenziale io da quello che ho capito studiando per questa relazione è il tema sulle small molecules sulle TKI è che più che più che altro lo spettro di inibizione del mondo vascolare quindi dei tre settori di DGF piuttosto che di FGFR eccetera è molto variegato e spesso quello che pensiamo di sapere neanche corrisponde a verità per cui non escluderei che i matini che non dovrebbe andare tanto su questi classi di recettori possa andare a dare qualche evento di questo tipo faccio un esempio adesso abbiamo un fra le mani per la patologia per idea due anti-RET che quindi non è un tema generale non è un tema direttamente antivascolare si sa che queste TKI possono sbavare come meccanismo di inibizione anche su altri recettori chi ce li fa le due casi che fanno questi farmaci dicono dai loro studi sicuramente corretti dal punto di vista in vitro di qual è la potenza di inibizione paleli C50 su VEGF 1, 2, 3 e sappiamo che dovrebbero essere molto bassi quindi teoricamente non darci certi effetti quadrali come l'ipertensione iniziamo gli studi su questi farmaci e vediamo pazienti con pressioni che esplodono quindi non sempre quello che pensiamo di sapere corrisponde effettivamente quindi mi aspetto che presto o tardi anche con i matini possa venire fuori se non c'è già un report di questo tipo ecco ma appunto anche in questo caso tu consiglieresti di sentire appunto scambiare i miei pareri con l'oncologo di riferimento? non fa mai male non fa mai male perché stimola quantomeno l'oncologo che non ci pensava a guardare anche lui in bocca al paziente è stupefacente quanto i miei colleghi io perché ho la fortuna di essere stato spedito a fare testa-collo in specialità e quindi mi sono appassionato di questo ma tanti dei miei colleghi non visitano il lavorare dei pazienti e questo effettivamente pone un limite al nostro processo mentale che parte dal sospetto se abbiamo il sospetto troveremo qualche cosa beccheremo lo stadio zero famoso di cui parlavamo prima se non abbiamo il sospetto dovremo aspettare l'esposizione ossa e a quel punto lì i giochi sono fatti ecco grazie ti ringrazio allora leggo anch'io una domanda sulla chat il nostro collega ci chiede sostanzialmente se rispetto a quanto pubblicato da Ruggero nel 2014 il fatto di sospendere la terapia dei posfonati in caso di intervento sia cosa ancora rispettata anche dalle linee guida italiane allora io devo dire che nella nostra pratica clinica poi andiamo a sospendere assolutamente e le linee guida italiane tendono a indicare questa questa sospensione come facevo vedere prima sul tema delle dragolide in realtà questo è tutto molto più dibattuto nel senso che ci sono evidenze meno forti sul fatto che dopo magari anni di trattamento con questi farmaci una sospensione possa ridurre nel tempo il rischio cioè ho il mio paziente lungo spravvivente con metastasi osse sia prostata sia tiroide mamella quello che vogliamo ha fatto due anni di aceto zooledronico posso volerlo sospendere anche perché il paziente è francamente stufo di venire mensilmente a farsi pungere a fare i prelievi prima eccetera e a quel punto sospengo e lo rivedo magari ogni tre mesi per fargli un richiamo di zometa questa è la si è sostretto la dragolide che è stata proposta per ridurre il rischio non è ancora così chiaro che questo rischio si vada a ridurre effettivamente in maniera significativa allora una domanda correlata nel caso in cui ci si debba comunque si debbano comunque fare degli interventi nel cavo orale quale è il protocollo di profilatico anche dal punto di vista antibiotico che molecole quale molecola quante molecole per quanto tempo anche qui poche evidenze quello che viene suggerito di solito è un banalissimo gumentino un moxiclawulanato a volte il tema della durata è più stressato del tema della qualità della molecola e proprio per un tema di durata magari una rotazione un'associazione di molecole può avere più senso per essere più tollerabili dal paziente avrei una domanda per il professore Abati vorrei sapere quali siano i tumori di origine invece extra orale che più facilmente o frequentemente possono dare luogo a metastasi a carico dei tessuti mogli o duri proprio del nostro cavo orale è interessante in realtà si sente in realtà le metastasi orali non sono frequenti sono piuttosto infrequenti io ne ho viste ne ho pubblicate tre non sono un quadro frequente sono anche perché vengono viste più frequentemente magari da chi segue da un punto di vista oncologico il paziente e magari poi vengono inviate e le più frequenti sono quelle dei tumori polmonari ho visto tumore mammario penso che siano tra le più frequenti grazie vi sono altre domande ma sì ne posso fare una io al professor amico anche grande Silvio tu hai citato scusa Silvio hai citato la dottoressa Campisi prima sì l'ho sentita la Campisi tempo addietro mi aveva suggerito questo mi pare sia stata lei e comunque volevo avere da te una indicazione eventualmente mi aveva indicato questo aspetta lo devo cercare nel mio cellulare questa applicativo sì che io ho scaricato bravo più che altro più che per i colleghi dentisti lo pensavo più per i colleghi medicina generale o cose del genere era Doctoral se non ricordo è una sorta di guida non c'è solo Doctoral Doctoral è quello in italiano ce n'è un altro in italiano e poi ce ne sono alcuni in lingua molto carina dove si può in base Doctoral poi molto bello in base alle caratteristiche di descrizione della lesione si viene guidati un po' a quello che può essere però anche adesso io ricevo ogni settimana almeno tre o quattro Whatsapp con delle fotografie cliniche dei colleghi che mi chiedono un parere sulle lesioni che vedono allora con la premessa di tutti i limiti che può avere la medicina a distanza la telemedicina in questo campo vero è che a me avevano chiesto di poterla introdurre nel periodo di e poi ne parlerò nel periodo di lockdown ma la medicina a distanza in un campo come la patologia orale è molto complessa perché non è che si riesce a fare una diagnosi a distanza senza solo guardando la forma di una lesione si può esprimere un parere un vago parere ma la lesione bisogna bisogna parlare col paziente sentire una serie di caratteristiche evolutive toccarla con un dito per sentire quanto dura è ricordiamoci che il tessuto neoplastico epiteliale cioè il cancro è più duro della mucosa normale quasi sempre e quindi è un po' come dire la telemedicina nel campo mentre può essere molto utile questo lo dico anche al collega Esteghini può essere molto utile per la pianificazione di un intervento o per la o per il follow up proprio magari nel paziente che assume i bifosfonati per sentire le caratteristiche della terapia ma nel campo della diagnosi di una lesione superficiale del cavorale è un po' limitativa ecco il problema della telemedicina che poi è insorto con la pandemia covid anche Carlo aveva accennato prima il problema covid è un grande problema e porterà sicuramente nei prossimi mesi se non anni ad un aumento della patologia più grave che si vede perché il lockdown ha imposto una riduzione delle attività mediche il fatto che gli ospedali fossero pieni dai pazienti covid il fatto che non ci fosse la possibilità di effettuare visite nella maggior parte dei casi a un aggravamento nemmeno nello studio dell'odontoiato per dire c'è stata la chiusura ad un aggravamento della patologia evolutiva volevo ricordare una cosa perché io ho letto una specie di domanda che con tutti i problemi dell'assistenza sanitaria pubblica i tempi di attesa le liste di attesa però per esempio la clinica odontoiatrica del San Raffaele è rimasta aperta per le urgenze che venivano per tutto il periodo pandemico covid non per la patologia di elezione ovviamente ma se il paziente aveva una lesione in bocca poteva venire e farsi vedere e tutti noi abbiamo lavorato senza problemi e allora senza vaccino non ci siamo sottratti come credo gli oncologi come credo tutti quanti i chirurghi come credo tutti i medici e gli odontoiatri che erano impegnati nelle strutture pubbliche o private con attività pubblica anche Bene grazie un'ultima domanda a me è sembrato di vedere in una delle diapositive questa è una domanda per entrambi però ma in una delle diapositive del dottor Resteghini quando di fatto si parlava di stadiazione zero che vi sono dei casi dove di fatto vi può non essere un'esposizione ossea ma si presenta del dolore dentario a specifico e questo dolore dentario potrebbe essere per un odontoiatra immediatamente identificato come una pulpite perché l'odontoiatra di fatto risponde in modo quasi pavloviano a questo tipo di stimolo ma dall'altra parte da quella diapositiva sembrava emergere la possibilità che sia un primo segno di di osteonecrosi in corso e in modo peraltro non visibile che consigli dareste sostanzialmente per fare una diagnosi differenziale in questi casi magari parto io dicendo quelle che sono state le cose che ho imparato dagli errori perché poi dagli errori si impara sempre e sono le lezioni che restano di più banalmente il paziente che citavo prima quel paziente carcevano la tiroide in trattamento con capo zantini che l'hanno dovuto sospendere per osteonecrosi accusava un dolore con una irraviazione auricolare verso la debutizione eccetera perché la sua osteonecrosi era una porzione soprattutto posteriore della mandibola dove spesso si concentrano per problemi di pressione che è un altro dei fattori che può giocare dolore auricolare un paziente che aveva un pacchetto linfodale omolaterale abbiamo pensato che forse la parattia fosse in progressione perché se l'odontiatra pensa sempre alla pulpite l'oncologo che è un ottimista per natura pensa sempre alla progressione quindi il problema è appunto giocare sul ragionamento mentale che uno ha sempre e che ha come possibilità il fatto che lo zocco non sia il cavallo ma la zebra perché l'indice di sospetto comunque ci deve essere escluso quello poi uno va sulla solita bisogna sempre visitare il paziente dentro la bocca io ho visto anche nel campo delle osteoradionecrosi pazienti trattati per i carcinomi orofaringei con radioterapia che avevano dolore irradiato all'orecchio in una posizione che viene interpretato come l'effetto poi dell'irradiazione e invece c'era un'area di esposizione nella parte mesiale della della mandibola perché da quel tipo di dolore quindi hai detto prima una cosa molto giusta durante la relazione bisognerebbe bisognerebbe che gli odontoiatri guardassero sempre in bocca e tutta la bocca e la mucosa dei pazienti ma anche i medici e di varie specialità coinvolte assolutamente perché sono troppi casi in cui non viene guardato o delegato invece magari si risolverebbe solo con un esame clinico anche perché adesso la pila ce l'abbiamo tutti esatto quindi non abbiamo più scuse esatto la mascherina ce l'abbiamo tutti abbiamo la pila quindi non c'è problema della macchina fotografica ce l'abbiamo tutti basta facciamo la foto e la giriamo al collego d'un togliato esatto di cui abbiamo sicuramente il numero giusto adesso sì adesso ce l'abbiamo ne abbiamo tante nella nostra ci sarebbe ci sarebbe ancora una domanda che presenta una collega cerco di rassumare dice nei pazienti riguardo l'osteoneco ci stiamo parlando che sono in terapia con bifosfonati da tempo quali quali sono in realtà prima lei citati Carlo perdonami quali sono i tempi corretti o perlomeno quelli che al momento possono essere considerati dei tempi abbastanza corretti di sospensione delle terapie farmacologiche prima di entrare nel merito di fare appunto manovre chirurgiche tipo togliere un dente anche banalmente chiamiamolo così parodontosico simili parodontosico allora secondo me i criteri numerici ci sono ci sono e sono farmacospecifici per cui viva Dio la nostra memoria può concentrarsi su altro ci sono sono scritti e le cose sono anche in evoluzione per cui il mio suggerimento è di riferirsi sempre alla linea guida perché ogni farmaco ha la sua specifico timing perché è dipendente dalle mie vita del farmaco per cui a seconda del farmaco vado a fare cose differenti che può essere un mese una settimana e tendenzialmente vince il criterio della prudenza per cui piuttosto prima di farlo è vero che c'è scritto nel rosso bianco se non è una guida il giudice non mi può dire niente ma in scienza e coscienza tiro sul telefono sento il collega gli chiedo uno se può sospendere effettivamente questo farmaco due con che tempi suggerisce se si confronta su quelle che sono linee guida e poi sul caso specifico e a quel punto si procede sulla sulla procedura bene io avevo una domanda per il dottor Carlo Resteghini allora innanzitutto complimenti anche a te perché hai fatto una bellissima relazione io volevo un pochino focalizzarmi anche perché di recente mi è capitato proprio in prima persona gli aspetti più clinici proprio dontoiatrici proprio relativi alla chirurgia eventualmente una chirurgia implantare su pazienti che assumono bifosfonati tu hai fatto vedere uno specchietto che si riferisce alle linee guida della professoressa Campisi che sono uscite nel 2020 quello proprio della con i colori appunto il semaforo giallo arancione verde che sono fatte in maniera veramente molto puntuali precise ecco e che io appunto ho seguito a cui mio mi sono ispirato proprio nel gestire questi pazienti ecco purtroppo spesso questi pazienti non sono così anziani quindi non sono pazienti che magari a cui possiamo magari pensare a delle bonifiche a passare per delle protesi mobili quindi evitare nella maniera più assoluta gli impianti a volte ci troviamo anche dei pazienti di 40 anni di 45 anni che hanno magari appunto una bocca per via della loro condizione generale è un pochino disastrata se vogliamo e che meritano anche ecco una possibile terapia implantare ecco io ti chiedo se secondo te in futuro diciamo le tecnologie e anche gli strumenti diagnostici che ci fanno appunto intuire fin dove arriva un rischio relativo appunto al paziente o al farmaco ci siano delle strade per cui anche questi pazienti possano essere trattati con terapie implantali piuttosto che rigenerative oppure secondo te si manterrà sempre una linea più talevana diciamo riguarda proprio a riabilitazioni più sofisticate allora io mi rimetterei per la mia tanta ignoranza a dire che plausibilmente qualcuno ci sta lavorando e credo che la strada sia il tema del biomarker cioè andare a capire un attimino tramite lo studio della patogenesi quelli che possono essere poi fattori che vanno a indicarci un potenziale aumentato rischio di di osteonecrosia a seguito di un evento trigger fin tanto che navighiamo nel buio dicevo prima vince la prudenza anche perché voglio voglio farmi la domanda sempre su quella che è la prognosi della persona che ho davanti dal punto di vista oncologico se è una patologia oncologica se non è una patologia oncologica è una paziente che sta facendo terapia con bifossonati per di osteoporosi o che altro a quel punto lì la prognosi è tutta diversa il gioco rischio benefici va a essere più più sottile perché a quel punto lì appunto il paziente giovane demanding pone veramente una pressione importante dal punto di vista di una riabilitazione più complessa e quindi più invasiva su quello su quali sono oggi gli strumenti disponibili per quantificare meglio il rischio purtroppo non ne abbiamo di così sofisticati mi posso augurare che arrivino mi aspetto che arrivino dopo la strada ma non non li vedo così a stretto giro ecco io mi ricordo che qualche anno fa forse adesso è passato un po' di moda c'era anche qualcuno che aveva proposto il CTX come diciamo valore di riferimento tu non l'hai citato nella tua presentazione quindi penso che insomma sia un po' abbandonato questa questo indagine l'ho vista citata ma non mi sono soffermato troppo un po' per brevità non è così attendibile esattamente il valore del CTX può essere richiesto che sono poi prodotti di degradazione del collagene così però non è così attendibile come pure bisogna fare se posso continuare su questa cosa proprio secondo me quando uno dei primi pazienti che avevamo visto con l'osteonecrosi da bifosfonati probabilmente l'avevo visto anche insieme al dottor Senna era una paziente che aveva portatrice di una protesi completa superiore rimovibile e nella zona dove aveva un modesto torus palatino la prominenza la protesi faceva pressione e in quell'area si era sviluppata la zona di esposizione bisogna fare attenzione anche non solo tanto più ai pazienti in cui si prevede una riabilitazione più complessa ma anche ai pazienti che hanno protesi complete o parziale ad appoggio mucoso dove bisogna cercare di ridurre l'impatto di questo appoggio magari usando materiali più morbidi condizionatori ribasando frequentemente cercando di evitare perché ogni punto di pressione anomalo può costituire uno stimolo per la per la patologia dell'osso sottostante che poi si sviluppa l'area di esposizione ed è finita perché si rientrano i microbi e quant'altro cioè diventa più complesso un'ultima domanda un'ultima domanda con una risposta un po' secca vi chiediamo solo questo ma giusto perché il tempo sta scorrendo abbastanza veloce rischi benefici rapporti rischi benefici no? non c'è stato o forse non c'è ancora un eccesso di utilizzo di questi farmaci angiogenetici antiriassorbimento in modo un po' come dire anche diffuso diciamo anche fra i medici medicina generale per vari motivi le case farmacestiche che hanno spinto eccetera che potrebbero in qualche modo essere consigliati ancora un fattore di rischio che è in circolazione in modo eccessivo una risposta un po' secca vorrei da tutti e due sì per i pazienti con problemi di osteoporosi sicuramente deve essere rivalutata come diagnosi prima di e approfondita prima di prescrivere il farmaco condivido quella è la categoria dove il rischio è più grande e dove un consenso informato va fatto se non scritto come facciamo noi oncologi per abitudine quantomeno essere molto chiari nel rapporto che è già col paziente dire lo facciamo ma non sono ziguli grazie mille grazie a voi grazie a Carlo è stato una piacevole conoscenza incontro sicuramente avremo modo poi di sentirci interagire nella nostra attività chiederei a presidente Cao di di chiudere la serata questo punto perché non vedo altre domande beh visto che il mio compito chiudere vorrei allacciarmi a quanto ha più volte ricordato in questa interessantissima importante serata il professor Abati non dimentichiamoci non dimentichiamoci tutti i medici di base i medici di famiglia e noi odontoiatri a visitare almeno una volta all'anno le mucose del cavo orale non concentriamoci come magari faremmo spontaneamente sul dente sul parodonto ma prima ancora valutiamo approfonditamente almeno una volta all'anno le mucose dei nostri pazienti come è stato detto la prevenzione è fondamentale per questo tipo di patologie vorrei ricordare che come ordine una volta all'anno noi organizzavamo una prima del covid una giornata molto bella la giornata della salute in cui momento importante era proprio la visita alla prevenzione proprio contro le patologie del cavo orale c'era sempre la collaborazione dell'esercito italiano e montavamo in varie zone nel parco Sempione questo shelter odontoiatrico dove potevamo fare screening visitare i cittadini che volevano avere un controllo speriamo di poterlo fare di nuovo presto perché veramente sono eventi molto molto importanti che sensibilizzano i cittadini nei confronti di questa patologia purtroppo poco conosciuta di cui bisognerebbe parlare veramente molto molto di più vorrei quindi ringraziare di nuovo moltissimo il professor Abati per la magnifica relazione il professor Resteghini che altrettanto avete fatto veramente una relazione magnifica e molto apprezzata vediamo anche da tante domande dei colleghi che sono rimasti collegati fino ad adesso grazie a tutti e do l'appuntamento al nostro prossimo evento che sarà il 15 di novembre con le patologie immunitarie buonanotte grazie a tutti a tutti ormai buonanotte buona serata arrivederci grazie grazie a tutti